Senza caduta di stile, senza usare toni forti, l'onorevole Nino Minardo, candidato del PDL alla Camera dei Deputati, chiude la polemica che in questi giorni è visto al centro del dibattito il popolo delle libertà e la fuoriuscita da alcuni esponenti politici di vittoria. In Consiglio Comunale infatti perde due consiglieri, quali Giovanni Moscato e D'Andrea Nicosia e il sindacalista Aldo Caruso. A scoglitti quattro consiglieri di quartiere, poi domani in Corvaia, Macaude e Fichera. Un'emorragia che l'onorevole Minardo commenta con estrema tranquillità, senza sferrare duri attacchi, ma considerandolo come la naturale conclusione di una vicenda di cui era già conoscenza. Da un punto di vista politico, in tal senso posso dire che era una notizia già ampiamente annunciata da più di un anno, quantomeno all'interno delle sedi di partito. In diversi incontri i soggetti in questione avevano mostrato negli ultimi mesi la propria disapprovazione alla politica portata avanti dal popolo della libertà e devo dire che si attendeva solo l'ufficialità anche perché si è trattato di elementi che hanno comunque fatto sì che il partito, soprattutto nella città di Vittorio, non riuscisse ad andare avanti e a crescere. Sono stati elementi che hanno causato diverse e parecchie divisioni. Noi quindi oggi, rispettando le scelte di ognuno, ritroviamo invece un gruppo dirigente, a partire dal nostro amico storico Riccardo Terranova, il nostro coordinatore cittadino Francesco Trama, che già l'altro ieri sera hanno riunito alcuni amici, diversi simpatizzanti e tesserati con un ritrovato entusiasmo ed un clima più sereno perché coloro che non perdevano l'occasione per impedire la crescita di un movimento politico in città finalmente hanno deciso di andare altrove. Minardo poi replica anche le critiche mosse sul mancato radicamento dei vertici, col territorio e la sua poca presenza a Vittoria. Trovo sbagliato invece dire che si lascia un partito politico perché è distante dai cittadini o perché, come il discorso che la soluzione di tutti i problemi a un certo punto per il nostro partito sembrava quella di dover cambiare il nome. Lo dico, il popolo della libertà a Vittoria. Cos'era? Era l'insieme di un gruppo di persone, tra cui Giovanni Moscato, Andrea Nicosia, Aldo Caruso, Riccardo Terranova, Francesco Trama. Allora, se queste persone, faccio degli esempi, non riescono ad andare avanti tra di loro, la colpa non è del PD, la colpa è loro. Allora, se chi poi decide di andarsene, evidentemente era il problema. Allora, forse finalmente l'abbiamo risolto e andremo avanti.